Mi presento, sono Mudimbi, faccio rap anche se in una maniera un po' insolita, direi, personale, originale ed è da poco, da poco, uscito il mio album, Miguel, otto tracce, prodotto in larghissima parte con l'uso della mia voce e intendo che gli strumenti sono fatti con la mia voce, questo perché non so suonare e non sapendo suonare ma avendo voglia e urgenza di fare musica, di creare delle canzoni, ho detto magari inizialmente improvviso tutto quanto da me con la voce e poi vado a riprodurla, a produrla in studio. Solo che una volta arrivato in studio mi è stato fatto notare che quello che avevo fatto con la voce era già la produzione, era più dello scheletro della produzione e quindi questo è, diciamo, stato il processo artistico, creativo dietro alla produzione appunto dell'album. Per quanto riguarda invece i testi sono andato forse ancora di più a braccio barra ad intuito in realtà anche quando producevo le tracce non è che stessi seguendo uno schema ben preciso però avevo un po' lo spirito del novizio che rifletteva due o tre volte su quello che poteva essere o meno la mossa giusta invece per quanto riguarda la scrittura sono andato molto più in scioltezza con quest'album ho veramente aperto i boccaporti, come si suol dire e mi sono concesso tutte le libertà che ho sentito il bisogno di concedermi all'interno quindi ci sono tracce più intime, ci sono linguaggi decisamente molto strong però sono fatto così al mio modo di essere e il mio modo di fare musica rispecchia il mio modo di essere e il mio modo di essere